visita guidata all'inferno normale esergo sei così ipocrita che come l'ipocrisia ti avrà ucciso sarai all'inferno e ti crederai in paradiso pierpaolo pasolini la religione del mio tempo 1961 due sole comunità abitano qui quelli che non lo sanno e quelli che si mandano all'inferno poi ci sono i cani sciolti ed è così fin dal primo giorno ma andiamo per ordine raccontiamo la storia arrivò nudo il dio buono in forma di fanciullo che ingenuo credeva avrebbe interrotto questo nel male cadere a rotta di collo ma subito subito tra un dado e l'altro senza smettere azzardo e mercimonio masticando filastrocche lo sgozzarono come un vitello ciò che ora vedi qui dove ci troviamo tanto mio pe come il sonno del mondo è la comune tragica risposta che non diversamente il dolore eterno ha una voce e non varia ma ciò che sempre più senza quest'urto veramente tu intendere non potrai è la buona novella la colomba viva che ti si posa accanto tanto gentile e onesta e bella mondo nicodemo mondo nicodemo prima disorientato poi superbo quindi cieco tanto feroce e niente di meno ti sei poi voluto appropriare della croce di questa pasqua di sangue ma il vangelo è follia vergine scandalo di chi osa tutto solo il cielo come il giglio il volo come gli uccelli dicendo sempre e solamente oggi 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 il vangelo è bartimeo è la donna vecchia malata scarto estremo nella società cui vien detto la tua fede ti ha salvata i ricchi intanto protestano con veemenza per avere il loro parcheggio personale tanto vicino alla basilica dove prendere come si deve la santa messa agghindati come papponi a un casino di las vegas profumati come il diavolo il giorno che ti vuole fottere e una volta messi cani e guardi ai loro suv che vanno difesi dai poveri entrano in chiesa felici si rimboccano le maniche come uomini veri che prendano in braccio la principessa per affrontare bene il guado salvando veramente capre e cavoli e iniziano così a inchiodare nuovamente sulla croce il povero vecchio Gesù come l'inesorabile e incredibile sorprendente coazione a ripetere di un povero malato di mente al punto da dover convincere anche i poveri e di riuscirci con lo stesso carisma che ha la pubblicità del consumo e non vengono mai sfiorati un solo cristallino secondo dal più elementare dubbio che forse proprio dentro quella loro strampalata liturgia si cieli il germe primo di tutta la follia intanto tutti matti manicomio dicono di parlare ogni giorno con Gesù un giorno che io ci sono stato e per davvero quello che non sarebbe più guarito in manicomio sempre c'è quello che come walser non sarebbe più guarito mi mostrò gelosamente la sua copia di un libro prezioso che chiamava vangelo e in esergo appena si leggeva il sazio non crede al digiuno che chiamava vangelo e in esergo appena si leggeva il sazio non crede al digiuno grazie a tutti